Un primo passo per la realizzazione di un centro per l'autismo a Pesaro. Un primo step che si è concretizzato ieri dopo che il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità la variante sostanziale al piano regolatore riguardo l'area di proprietà dell'Asur in via Vatielli. Proprietà che da ieri vede un importante cambio di destinazione d'uso da servizio per l'istruzione di base a servizio d'assistenza sociale e sanitaria. L'attuale immobile di Villa San Martino, individuato nel 2019 come destinazione ideale per un nuovo centro, è stato realizzato negli anni 70 come scuola materna ed ora con questo provvedimento verrà demolito per far nascere la nuova struttura sanitaria. Oltre al cambio di destinazione, l'Asur ha ottenuto un aumento dell'edificabilità a 1.208 m2 di superficie netta, con la possibilità di realizzare due piani fuoriterra. Un progetto che ha visto in questi anni un confronto continuo tra amministrazione comunale e regionale, ATS1, Asur regionale e area vasta 1, l'ente che dovrà realizzare il progetto. Una variante urbanistica che il centro-sinistra invita a massimizzare la velocità di approvazione, contando di avere quanto prima il progetto completo e trovando le risorse per concludere questo servizio che verrebbe fornito alla cittadinanza.